Una mattinata dedicata esclusivamente alla fase tattica per la Fiorentina a poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro l'Aris di Salonico, l'ultima gara amichevoli in programma all'interno della cortice dei Monti di Moena, un amichevole dal sapore internazionale che sarà trasmessa in diretta a partire dalle 17.30 su violachannel.tv e che potrete seguire naturalmente anche poi al termine con highlights e interviste. Per quanto riguarda le dirette di violachannel vi ricordiamo anche che la partita contro il Galatasaray sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia in diretta in streaming proprio sul nostro canale tematico o sito ufficiale, se preferite. Parlavamo di allenamento e del mister Montella che ha voluto dedicare la mattinata prima della gara contro l'Aris appunto alla fase tattica, prima i movimenti all'interno dei quadrati tecnici, poi tutta la squadra schierata sul campo 11 contro 0 e quindi il lavoro sulle punizioni e sulle palle inattive. Grazie a tutti! Grazie a tutti!